Ehi, ciao a tutti, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con News per Mario Bros U Deluxe Siamo pronti a cominciare una nuova avventura, Ghiacciaio Candito Guarda che bellini pingunotti lì, che se ne vanno a giocare, oh, quello sarà molto interessante di riuscire a prendere Anche lì, questi che se la spassano sul ghiacciaio, è giusto così E cominciamo allora, sotto un cielo di stelle girevoli Ah, ok, non ho idea di cosa mi attende, ma vediamo Ah, certo, queste che girano, beh, ovvio, stelle girevoli, cos'altro potevo aspettarmi se non questo Ok Però sono contento di aver preso la Natsut, almeno posso stare un pochino più tranquillo mentre gioco Nel caso faccio una delle mie solite stupidaggini, posso salvarmi magari Ecco, cerchiamo di non fare lo schianto a terra magari dove è aperto su uno strapiombo, eh Ah, ma è pieno di stelle girevoli qui Beh, è il nome del livello Vorrei ben vedere E dai, su, non è un problema prenderla però, cavoli Sopravvaluto quanto è forte la Natsut E un altro Giusto per i punti Ah, aspetta però, qui posso entrarci? Sì Sì, posso, però devo Devo prendere bene Ok Bello che non l'abbiamo nascosta qui la moneta Stella Almeno sai Ah, ah, cavoli Ma insomma Uno cerca di Prendere tutti i segreti Senza sapere che era un segreto, ovviamente Ah, aspetta però, forse posso Salvarmi in qualche maniera No, non voglio fare lo scivolo però Ah, sì, sì, eh Oh, e vabbè, allora Ma me l'avete messa proprio per me questa, allora Ok Oh, anche la seconda Carino Ma quindi se era qui sopra che se Cioè Ah, perché se non è la tuta Ok, certo, ma Non c'è altro Quindi solo per la moneta Solo Insomma Solo per la moneta Vabbè Nient'altro Posso capirlo Va bene Eh, però aspetta Aspetta E qui c'è qualcosa Guarda Eh, ti fareva Ormai Se non lo capisco ora Che ci stanno tutti quanti sti segretucci Ah, qui devo stare attento A non cascare Bene Ohia Perfetto Andiamo, andiamo Non dovrebbe mancare molto ormai Al fine del livello Abbiamo preso il checkpoint Non prendo un'altra volta la tuta Che non serve Ehm Queste posso prenderle Tranquillamente Se ci riesco In tempo Oh, cavoli Che fastidiose queste Queste Eh, questo Tutto quanto è più difficile Ma penso di farcela Dai che sta per scadere il tempo Grande Bene Vai, oh Sta andando bene oggi Ecco Ora che l'ho detto Ehm Ok Queste mi piacciono Ste monete Se riesco Però a farlo Perché Con sti cosi che girano Non è facile per niente Penso che Ah, vabbè Dai Qualcosina ho preso Ah Eh, io voglio andare lì sotto Ora però No Perché Perché ho fatto schiotto a terra Perché sono imbranato Grande Ah Per fartela fare così Ecco Ma che grandi Oioi Qui se casco è finita però Ah Beh E allora Ma questo è stato fantastico Bellino sto livello Accipicchia Va bene Va bene Ah Lo prendo Yoshi Non lo so Magari Forse è meglio Continuare prima gli altri livelli Territorio dei pinguastri Ah Quindi ora Arrivano i pinguastri Io li chiamavo pinguinotti Ma Eccoli Guardali Ah Ah Ma io posso ghiacciare questi Se non sbaglio Su New Super Mario Bros Per DS Si possono ghiacciare E farli scivolare Come dei grossi blocchi di ghiaccio Oh no 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 André Però cavolo Che scemo che sono Aspetta Forse Ma grande Ma grande Come lo sai il gioco che esiste Andralink Che quindi sbaglia Grazie Ah Qui ci sono tante monete Magari le prendo Si Non era necessario Prenderle tutte Però l'ho voluto fare Non so Quando mi gira così Che le prendo Ci può stare Dai Cavoli Da qui escono Da qui escono vero Eh ti pareva Dai Ne ghiaccio uno Ne ghiaccio Lo faccio andare Ah Non l'ho preso Oh 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 Come mi sono salvato Non me ne ho Non lo so Non ho idea Di come mi sono salvato Ho saldato proprio Al pelo Mi sembrava che già Mi avesse preso Eh invece Oh 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 Ciao Ah questi sono quelli Che spawnano Così ogni tanto In gruppo Allora Oh cielo Ancora niente seconda moneta Non lo so Andiamo avanti intanto Allora Che tordo Il fiore ghiaccio Ok Andre Link Non lo fare per favore cervello No 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 Non ce la faccio Mannaggia Mannaggia tutto Mannaggia tutto Ok Andiamo Eee Potevo magari Ah si certo Devo beccarlo Oh beccate questo Ok qui c'è il fiore ghiaccio Eccola Seconda moneta A queste magari ci provo a prenderle Che non mi farebbero molto schifo Un po' Un altro one up Un po' di vita mi farebbe piacere Però devo arrivare a 100 Che ci arrivo praticamente ora Ci hanno provato eh Ci hanno provato Ma non ci sono riusciti Ah mi sa che è finito il livello No Stavolta mi sembrava Oh Fine livello Ma Possibile che due livelli di fila Prendano tutte e tre le monete Grande Grande Vabbè si Buonanotte eh Ciao eh Porca sozza Certe volte Anche mi ci impegno Niente da fare Non ci riesco proprio Allora Qui bisogna stare attenti Attenzione Perché se lo becco il pinguino Perdo tempo Ma va Di classe Oh Ciao Ma guarda un po' Torre del ghiaccio Oh cielo Torre del ghiaccio cadente Non mi dire che ci sono le starattiti qua Che si staccano Per farmi del Sì Ci sono Basta vedere L'acqua che cade Le goccioline Oh Ok Oh per un pelo Ohia Ok questo ci fa salire Mi chiedo se Saltando magari Sì Saltando è meglio Cielo Saltando è meglio Ah Qui sarà un po' difficile Si riformano Certo In quale gioco non si riformano Andrelin Che cosa stai Oh mio dio Mi chiedo se magari Perfetto Ho avuto la risposta Dicevo Magari le starattiti giganti Possono sconfiggere I Koopa Pronti? Ah ci siamo Eh Gli schiele Koopa Che ho chiamato Puttosto lo scorso video Ma vabbè Era per ridere No lo scorso video Quando era che ho fatto Forse lo scorso video Non mi ricordo Ma comunque Non ha importanza Ho detto Mi è proprio uscito Proprio da solo Non è che l'ho fatto apposta Aiuto Eh Quello vorrei prenderlo Ma Magari ci riesco Magari no Eccola lì No Non ci riesco Tempismo Proprio svanito Bisogna prenderlo In una certa maniera E Io niente Non ce l'ho fatta Torniamo sopra Ok Rieccoci qua Ah Non ho ancora preso nessuna Ah eccola Forse Spero sia la prima Perché non mi sembra Di aver visto Entrate segrete Con muri invisibili E cose simili Quindi quella dovrebbe essere La prima E se è la prima Sono molto contento Ah Top Dai 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 Oh Checkpoint Non mi dispiace Almeno se perdo Cosa che sicuramente accadrà Eccola qui A cali sicuro Perché ora ci imbarchiamo Gli schede Koopa Ah però Se posso ghiacciarli Mmm Vediamo un po' Ah Certo Ma 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 che cosa è successo Lì Ma Si è mosso da solo Ah ma questi possono Rimanere schiacciati Come tutti quanti I nemici di Super Mario Giusto E si Mario stesso Ovviamente Si si Oltre alle stalattite Ovviamente Li fanno fuori E ci sta No devo prenderla Quella sennò è persa per sempre Che le molte non vengono con me Uh Ok Ok Ci ho perso il power up Ma almeno non sono rimasto Schiacciato come quei Schede Koopa Cosa buona È che non si riformano Le stalattite qui Grazie eh Grazie di questa piccola Consolazione Arca miseria Se no Era davvero Era tediosi Già è brutta sta parte Ci mettevi pure quelle Che si riformavano Bella pensata Bella Oh mio dio Non ci sono rimasto Per poco Ah Vai Eh no Cielo Oh yeah E Finisce così Ah E Allora Non ero sicuro Si fermasse Quindi Ho avuto fortuna Che si è fermato Non c'era la terza moneta Non ho idea Dove L'abbiano messa Comunque Vediamo un po' Che cosa acquisisce Boom Boom Oggi Dai Vai Kamek Facci vedere Che potere gli dai Con i tuoi triangoli Quadrati Ah no Lui che fa Sì Quadrati Triangoli E cerchi Certo La X Non la può fare Anche se in realtà Ne avrebbe tutti i diritti Visto che era roba Nintendo Prima che Sony Si mettesse in proprio Cioè si mettesse in proprio Per la console Playstation Intendo No dai Ma insomma Ma uno sta Ma uno sta Che si è messo a saltare E a girare insieme Questo è il tuo potere Saltare E girare Mi ricorda qualcuno Saltare e girare Ah Riaccomi qua Pronti Let's go Stavolta Ti faccio vedere io Boom Boom Ti insegno come si salta Ce lo so il tempismo È che Le mani non eseguono Vabbè che ho una certa età ormai Per i videogiochi Però Insomma Non è che sono proprio impedito No Allora Non so se stannarlo con l'inghiaccio È una buona idea Perché non è che Serve a mo Oddio forse sì Proprio per farti prendere Il momentum bene Quando appunto Si paralizza Quei pochi secondi Grande Eccolo Ho 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 I'm the winner Certo Buono Benissimo direi È andata piuttosto bene Non mi posso lamentare Però il fatto che Iniziano ad essere Tre livelli E non quattro Mi fa pensare un po' Mi fa pensare un po' Che sono pochi Beh ad ogni modo Io darei anche un occhio Da quello che viene dopo Ah Beh sì Non c'è molto Uno due Tre Quattro Ah lì sotto No non ci guardiamo Che c'è una L'ho fatto prima Ma verrai in un altro video Beh ad ogni modo Io vi ringrazio Per aver seguito il video E noi Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao